Il CCM, per sostenere la campagna Sorrisi di Madre Africane, ha aperto un progetto sulla piattaforma Rete del Dono, quindi sul sito rettedeldono.it. Si tratta di coinvolgere i parenti ed amici nel sostegno a un'iniziativa che ci sta particolarmente a cuore. Tutti i medici che partono per il CCM aprono una loro pagina di crowdfunding che afferisce alla pagina principale di il CCM. Da questi profili, quindi da questa pagina, è possibile contribuire al progetto Sorrisi di Madre Africane. I pretesti però per coinvolgere le persone possono essere diversi, un compleanno, un anniversario, una sfida sportiva. Sotto il progetto del CCM Sorrisi di Madre Africane è possibile cliccare sul tasto Diventa Fundraiser e quindi aprire la propria pagina personale e pubblicizzarla con amici, parenti e conoscenti.